Ciao a tutti ragazzi, qui Erox e siamo ritornati con questo nuovo video della Hardcore Siamo alla puntata 7 se non sbaglio E niente, oggi sono da solo Come potete vedere, fortunatamente Oggi non so che cosa fare di preciso Sistimerò un po' in giro per casa Ah già, qua c'è Too Many Items che ho fatto prima al video E niente, mi è successa una cosa strana ragazzi Tipo, mi si era cancellato il file del mondo Cioè, della versione Prima dei cambiamenti, ok? Cioè, prima dei cambiamenti non c'era più una demerita segue Niente, non c'era niente E non capisco come mai questa cosa Però vabbè Ora direi che è tutto sistemato Qua volevo sistemare un po' perché faceva un pochino cagare da vedere Ma sistemerò un'altra volta, mi sa Ricordiamo che siamo in Hardcore Ragazzi, in Hardcore Può succedere di tutto Qua lascerò così Perché non ho la minima voglia di sistemare Oggi, oggi, oggi Volevo E che cazzo Oggi, oggi, oggi Volevo fare il piano sopra Della casa Un'impostazione video Corta Vabbè Abbassavo ancora un po' di più Ok, perfetto Quello zombie lì fuori Sta crepando Perfetto Non vedo nessuno in giro Dunque, posso andarmene Tranquillo In giro Ecco Pure il singhiozzo Che mannaggia Allora Che si può fare? Prima di tutto Spianiamo un po' qua Che è molto brutto da vedere Oggi Credo che farò Più o meno Una cosa del genere Che sistemerò Un po' tutto E mi organizzerò Dato che Che no Niente Ok Poi O intanto Ho preso un bel po' di legna Mini Mini stick Mini stick Sono sicuro che Adesso metterò tipo Delle scale all'esterno E sono sicuro che Mi salveranno la vita Quando sarò in pericolo Ok, sarò fuori di casa Aiutami Sto crepando Tipo Andrò Sopra Il tetto E mi salverò il culetto Perfetto 24 scale Vanno più che bene Iaia Allora Dove le posiziono? Mh Mh Bh Qua Ok Direi di andare Di sopra Ok Lagga un po' Non so Come mai Vabbè Non ne ho idea Qua abbiamo intanto Un po' di legno Che mi sa che dovrò farmelo fuori Anche tutto Mannaggia Già Faccio più o meno uguale Sopra Non ho voglia di star lì a fare Due cose un po' diverse Ok Qua non so se velocizzare o meno Lagga un po' Tipo Vascatti Va scatti Cazzo Lontana Normale E che cazzo Lagga Non capisco come mai Vabbè Non lo so Mi sento di essere un po' strano oggi Sai quando non ve la sentite di registrare Però lo volete fare comunque Ecco 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 Che vi dicevo Sono pure caduto dal tetto Può dire di fare una cosa del genere In modo che si può risalire Se si vuole di sotto Come ho fatto io esattamente adesso Facciamo ancora un giro E chiudiamo anche Così faccio anche il secondo piano E siamo a posto Non so che diavolo sto facendo Devo capire un attimo Perché tipo Boh Ah intanto mettevo anche la sabbia Giusto giusto Devo mettere anche la sabbia sotto Ah ragazzi Sistemeremo Anche il second survival Che dovremmo andare avanti Perché ho visto che a tanti piace E comunque Le visualizzazioni su quel video ci sono E dunque direi che si può fare Ancora uno Chiudiamo così Io direi di fare ancora un piano Sì 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 Ecco Mi sono creato un platforming intanto Ok Devo stare attento Perché se crepo Sul tetto Sono veramente un idiota Ecco che vi dicevo Se morivo sul tetto Sono davvero un idiota Devo capire perché Laggo Cioè 12 fps Robo del genere Aspetta ragazzi Provo Provo a sistemare un attimo Il problema del lag E ritorno subito Ok Siamo ritornati Non so se ho sistemato Ma Penso di sì Penso di avere sistemato Il lag Che infatti Non lagga più così tanto No non Lagga pochino però Direi che è una cosa abbastanza Sopportabile Sì 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 Assolutamente sì Qua direi di farci Una Workbench Tattic workbench Perfetto E di farci un Che cazzo Tutto di legno Mi sto a fare Vabbè Meglio di niente Ok Perfetto Tattic workbench Vieni con me Dimmi che posso mettere Sì Sennò inizio veramente Oh Ho finito la legna Perfetto Perfetto Tattac 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 Perfetto Ok Qua chiudo un po' così Alla random Perché non ho voglia di fare Preciso Però quelle cose lì Non mi piacciono Ok I Ok Sto iniziendo a arrabbiarmi Non voglio le lampadine Eh Vaffanculo Perfetto Luci Tattiche Ok Luci tattiche Messe Qua Smantelliamo tutto Eh Sì Direi totalmente Sì Fammi andare a farmi un'accetta di legno Perché Veramente sto sclerando Anzi Me la faccio di 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 ferro Così veramente Oh Ora si ragiona Ora facciamo il culo a legno Totalmente È dire che è tutta un'altra storia Però Bo Lag ancora Che cazzo ne so Mmm Risparmio energetico Luce soffusa Sì Luce soffusa No Preferisco far così Particelle Tutte ridotte Nuvole Corta Sembra laggare di meno Ok però Direi che così si vede E dai Oh mio dio No è bruttissimo Dov'è Luce soffusa On Ok però così al massimo Sì 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 Molto meglio Molto meglio Yes Qua volevo fare tipo Un lucernario No è sdrogheggiante Lo dovrò fare sicuramente Mi serve La sabbia Where are Sabbia Sabbia Qua Tipo mi faccio Un lucernario Qua sopra Sì sì Spacca Ok direi di prendere anche Questo Questo E dai Questo E soprattutto Questo Perfetto Portiamo di sopra Ehm Ok E iniziamo a farlo Un attimo ragazzi Arrivo subito Ok eccoci tornati Scusate fratelli Ma Ho dovuto fare un favore A my mother Ok qua direi che Spacca tanto Un Un lucernario Di quelli faighi Anzi Voglio farlo carino Quei lucernari proprio Da pro Ok Un lucernario Tattico Un lucernario qui E un lucernario E un lucernario qua Yes Quali tattici E poi voglio fare tipo dei buchi qua Di quelli che spaccano Sì 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 È molto carino Adesso punto Unisco tutto Ehm Ho finito il glass I need glass I need glass Perfetto Cinque Dovrebbero bastare No Ne serve ancora uno No Bastano Oh Culo assurdo Sì sì Molto tattico Perfetto Ehm Andiamo Oh Ora lagga molto di meno Molto meglio E direi anche Vediamo Chi c'è fuori Chi c'è Chi fuori Questo mondo È totalmente Assente dai mob Oh guarda Non c'è in giro Una mosca Molto meglio così Non vedo nessuno ragazzi Mi sto iniziando a preoccupare Seriamente Sembrano quelle scene Or La mucca assassina L'albero che appare Scompare Un maiale E qua chi c'è C'è un cazzo Sta lì il bello Hmm Quasi quasi sapete una cosa Cioè Faccio una cosa estetica Alla casa Sì 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 Cazzo è Ah Sì 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 Direi proprio di sì Dunque prendiamo questo E facciamo Così Sì 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 Spacca 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 Perfetto Mi piace Una qua Una che qua Devo andare a metterla Oh cazzo Stavo volando giù Stavo volando giù Ehm Sì Spacca Altro legno Pure qui Spacca Dai mettilo Perfetto Fuck yeah Ehm Dai dai Spacca 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 Mi serve ancora un po' Di questo legno Mi sa perché non ne ho abbastanza Vediamo Vediamo Se è carino Qua avevo messo mica Aspetta Delle scale Oh Il culo Il culo della mia parte No Preferisco Perfetto Uno due Tre Uno due Tre Perfetto Perfetto Volevo fare tipo la cosa tattica qua Almeno Posso Scrutare da lontano Tutto Qua tipo farò Una torre gigantesca Almeno potrò vedere giù tutto Oh La ho visto uno zombie Eccolo là Molto faigo No Non è faigo un cazzo Qua Dove sono Eccole Tattac Oggi volevo Dedicarmi più che altro Alla seconda puntata Perché Alla A questa puntata Della casa Perché Perché dissi Che mi andava Qualche problema Oh Scordatelo Scordatelo Fai ciao Ciao Ok Devo stare attento Con questo creeper Che gira attorno Alla casa Che è pericoloso Ok Non so se mi basta Spero che mi basti No Non credo proprio Che mi basti No Per niente C'è ancora in giro Quel Oh cazzo Ora sono due Uno di là E uno di là Non dirmi che ha fatto Tutto il giro Oh cazzo L'intelligenza dei creeper Mi sorprende Davvero Oh cazzo Fa davvero paura Merda Ehm Una cosa tattica Qua Due Un vetro qua E un vetro Aia Qua Dimmi che non ho Like a boss Ciao creeper Dove diavolo stai andando Vuoi salire per salutarmi Tanto non ci possi Ti piace Ehm Vedi Stai cercando una strada alternativa Ehm La tua intelligenza Non te lo promette Oh cazzo Non dimmi che fa il giro di qua Oh merda Cucu Ciao Scordatelo Già guarda vorrebbe che Vorrebbe farti entrare ma Io te lo Ti dico scordatelo Guarda Sono anche qua Guardalo qua Gambine sexose Ehm Tu stai qua Eee Volevo mettere Qualcosa degli incantesimi Qua Dove Dove sono le librerie Ah già Non ho più le librerie Ho questi qua Dov'è la workbench Tattica Tattica Tattic workbench Perfetto Facciamoci ancora dei libri E dei libri Delle librerie Ah me ne ha droppati di più Di quelli che avevo prima Ottimo fratelli Ottimo Uno di qua Uno di qua E lui In centro Perfetto Sei il potere Che confluisce Ehm Uno Livello uno Livello uno Livello uno Livello uno Dai livello uno Ok deduco che non esiste Livello uno Andiamo a mozzare uno zombie Direi proprio di si Allora Qua c'è ancora il creeper Vero? No No non ho voglia di farti entrare Proprio per niente Scordatela Che cazzo fai già qua? Che cazzo fai già qua? Eh? Devo stare attento Perché sono molto intelligenti Ok Livello due Andiamo a incantare L'ascia Perfetto Molto perfetto Lascia Lascia Dove lascia? Qua Due Efficienza uno Perfetto Quello che volevo Grazie No Non so neanche Che diavolo di effetto Sia Sinceramente Aspetta Oh mio dio Spacca veramente veloce Fuck yeah Proprio quello che volevo Anche se non lo volevo Mi lascia uscire? Ok Facciamo meglio Se sto in casa Qua c'ho tutto Volevo incantarla un po' Ma Non ho abbastanza punti skill Qua è a posto Sopra se non sbaglio È a posto Ah Ho visto delle Sì Librerie Esatto Ok Eccole Posso ingrandire La tua sapienza La sapienza Ok Sapienza Vai Sapientisciti Guarda quanta Quanta sapienza sta arrivando Perfetto Ehm Arrivano a livelli alti adesso Tutti intorno ai 7 8 Buono buono Ah Il letto giusto ragazzi Letto voglio fare una cosa tenera qua Perfetto Cazzo Ehm Dai entra E direi che La casa è finita Andiamo a uccidere quello zombie Spero che la tua intelligenza non ti faccia fare il giro Infatti gli zombie sono rimasti ancora dannatamente stupidi Tutta mia la tua esperienza Ok Nella prossima Farò Registrerò ancora due puntate oggi In modo che potrò uparle Uno Sarà Ehm Anzi Ne faccio una In due Andrò a cazzeggiare Ehm Intorno In giro qua E Andrò Nel Non ve lo dirò mai Se volete saperlo Seguitemi Ehm Alla prossima puntata